ciao pierre che comunque secondo me prima di poter riuscire ad arrivare a fare questo c'è bisogno innanzitutto di una comprensione dei vari elementi di un sint cosa fanno e poi quegli elementi lì come dicevi prima leggere il manuale e capire dove sono e come toccarli all'interno di quel particolare vst perché se no se parti da un vst a caso e cerchi di capire una patch non ce la fai allora io quello che vi dico è sono d'accordo assolutamente infatti cercherò di darvi le cose un pochino alla volta non ce la fai ma qualcosa capisci qualcosa il discorso è l'aspetto conseguenziale cosa succede quando giro questo parametro questo parametro importante beh sì perché è mappato da qualche parte quindi è importante vediamo qualcosa farà se lo cambio cosa succede perché vi parlo di sta cosa perché ok io ho sempre avuto un approccio abbastanza strutturato alle cose però molto spesso mi trovavo di fronte degli strumenti con dei pomelli che dicono e questo cos'è dovrebbe essere non lo so come faccio a sapere che cos'è potrei leggere il manuale se c'è e se il manuale non me lo dice io io giro io lo giro e vedo che succede e a un certo punto dici ti piace questo oggetto boh che cosa fa questa modalità boh però funziona allora io ti dico ho visto io non conosco molti diciamo programmatori di synth con un approccio strutturato quanto il mio però dall'altra parte conosco anche tanti 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 musicisti tanti programmatori che sono molto bravi sono efficaci in quello che fanno quello che io voglio dire io vi posso insegnare come come programmo io vi posso insegnare il mio approccio ma vi posso anche dire guardate che se volete sviluppare il vostro dovete prendere puntare le mani sullo strumento girare i pomelli e cercare di capire come qualcun altro ha fatto dei suoni che vi interessano di trovare la maniera di rubare con gli strumenti cognitivi e tecnici che avete perché a un certo punto dice oh gli strumenti io mi impegno è per svilupparveli questo è il secondo webinar ce ne abbiamo altri n credetemi che sulle componenti sui dettagli ci andiamo anzi potremmo cominciare anche subito però diciamo questo discorso secondo me è un discorso che andava fatto nel senso non sapete come si fa un suono cercate di capirlo come ti mettete lì e lo fate allora tanti tanti ragazzi no poi chiedono come faccio a fare questo suono come faccio a fare quell'altro suono però già un buon punto di partenza sarebbe anche solo comprarsi un sample di un pacchetto di patch di quel genere musicale e andare ad analizzarle e vedere che onde sono usate come sono gli inviluppi che effetti vengono messi programmati poi o uno si si sviluppa il suo si trova altre strategie